Sei un appassionato di cucina giapponese? Vuoi sapere quali sono i migliori ristoranti giapponesi dove mangiare sushi a Londra? In questo video vedremo dove mangiare e spendere poco con la formula All You Can Eat, ma senza avvelenarsi. Ma prima di parlare dei migliori ristoranti giapponesi di Londra... SIGLA! Uno dei primi ristoranti dove spendere poco e mangiare All You Can Eat che ti suggeriamo è Sushi Salta. Si trova a Camden ed è molto molto particolare. Già dal nome si può intuire qualcosa. Infatti è possibile trovare non solo i tipici piatti della cucina giapponese, ma anche delle prelibatezze brasiliane. Sarsuela! Il buffet è aperto dalle 5 di pomeriggio e si può mangiare a volontà solamente con 21 sterline a testa. Mica male! Sicuramente si può trovare anche qualcosa a meno. Ma conviene sempre spendere qualcosina in più per essere più sicuri della qualità che si troverà. Il secondo che ti consigliamo è Oisama Sushi. Anche qui con 20 sterline è possibile abbuffarsi a volontà e partecipare alla tornata All You Can Eat. Spendere poco e mangiare bene dovrebbero essere il motto di questo posto. A confermarlo sono anche le numerose review positive su TripAdvisor che consigliano di optare per la classica barchetta. Ben assortita e molto conveniente se si è con un gruppo grande di amici. Oisama Sushi si trova a Merlin Bond 39 Paddington Street. A Battersea per la precisione al 555 Battersea Park Road troviamo invece Sushi Cafe. Anche qui si può partecipare all'All You Can Eat. Con ancora meno 17 sterline la sera e rientra tra i migliori ristoranti giapponesi di Londra. Pochissimo in pratica. Eh sì. A pranzo il prezzo scende come succede anche in Italia. Ha 14,99 sterline per gli adulti ed è dimezzato perché ha al di sotto dei 12 anni. Ideale quindi per chi vuole spendere poco. Il consiglio generale è di non ordinare nulla fuori menù con costi aggiuntivi perché si può rimanere super soddisfatti anche con tutto quello che c'è incluso nell'All You Can Eat. E noi ci abbuffiamo sempre. Dozo rientra sicuramente tra i posti in cui devi andare se ti sei chiesto dove mangiare sushi a Londra. Ottimo il rapporto con la qualità ed il prezzo. Nei giorni in tre settimanali pagherai solo 8 sterline. Ha un vasto assortimento non solo di cucina giapponese ma anche cucina cinese e Thai. Dozo si trova a Bloomsbury 32 o Compton Street a Soho per intenderci e a South Kensington. Al 33-35 di Carter Lane si trova invece Benyana e sicuramente tra i migliori ristoranti giapponesi dove mangiare sushi a Londra. È un emblema della cucina fusion giapponese. Assolutamente sì, direi forse il miglior ristorante giapponese di Londra. Proprio per questo motivo lo posizioniamo al primo posto nella nostra classifica dei 5 ristoranti migliori di Londra dove mangiare Oyu Benito. Molto merino anche l'interno caratterizzato dal colore rosso e nero con dei cuochi che cucinano in bella vista in centro della sala. E il tutto risulta uno dei posti per eccellenza dove fare colpo se si vuole portare una persona cara a cena. È un po' diverso dai soliti posti. Si può ordinare la cena completa con 30 sterline a persona e risparmiando sul servizio. Gratis o comunque incluso nel prezzo. Questo ristorante giapponese è consigliato anche per gli amanti della birra, viste tutte le varietà che mette a disposizione. Non dimentichiamo inoltre che è ideale anche per i vegani, viste le numerose zuppe e i piatti a loro dedicati. Se questo video ti è piaciuto metti un bel mi piace e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Mi raccomando, attiva le notifiche! Se anche tu sei come noi un amante del sushi, non puoi perderti questi ristoranti. Ne conosci altri? Se sì, faccelo sapere perché non vediamo l'ora di andare a provarli. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e... Ciao! 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 Ciao!